Giuseppe Mascara è il nuovo allenatore della San Cataldese. La notizia ufficializzata sulla pagina Facebook della società Verde Amaranto ha fatto registrare oltre 800 like in poche ore, con circa 100 condivisioni e decine di commenti. Entusiasmo alle stelle tra i tifosi per l'arrivo del giovane tecnico di Caltagirone a San Cataldo. Mascara, classe 1979, ha giocato ad alti livelli nel calcio che conta, indossando le casacche di Avellino, Palermo, Genoa, Catania, Perugia, Napoli e Pescara. Nella stagione 2012-2013 ha giocato anche negli Emirati Arabi con la maglia dell'Al Nasr, 22 presenze, 13 gol. Le più grosse soddisfazioni con il Catania, 185 presenze, 45 gol, dal 2005 al 2011, una stagione in B e 5 in A. All'attivo anche una presenza con la maglia della nazionale di Marcello Lippi nel 2009 contro l'Irlanda del Nord. Nel settembre dello scorso anno a Coverciano Mascara ha superato con esito positivo l'esame d'allenatore professionista di seconda categoria UEFA per allenare fino alla Serie C. Nello stesso corso anche l'ex interista Cambiasso. Ha allenato nel settore giovanile del Catania e nella stagione appena andata in archivio. È stato alla guida del Giarre in eccellenza. Intanto a San Cataldo si sogna una stagione da protagonisti nel prossimo campionato di Serie D 2018-2019. Dopo l'allenatore, la dirigenza Verde Amaranto potrebbe ufficializzare la conclusione di diverse trattative con giocatori in grado di far compiere un salto di qualità alla squadra che lo scorso anno ha conquistato la salvezza.